Sono i nostri clienti che da 50 anni ci scelgono e ci fanno capire di cosa hanno bisogno. Ci sono oggetti che possono essere comprati per la loro convenienza, altri invece per l'emozione che ci danno. Le famiglie che vengono qui si innamorano del legno, accarezzano i tavoli, i letti, si emozionano a pensarli nella loro casa. E noi cerchiamo di trasformare la loro idea nella casa che hanno sempre desiderato. Spesso andiamo nelle loro case a provare quel tavolo o quel divano perché possano vederlo là dove starà, sicuri di aver fatto la scelta giusta. Realizziamo per loro anche mobili su misura, come vestiti cuciti addosso a una persona, sfruttando ogni centimetro, ogni linea, curva e volume della loro casa. I nostri clienti hanno anche capito che risparmiare significa scegliere la qualità. Scelgono un prodotto funzionale che li rappresenta e che li emoziona. Preferiscono arredi buoni ed appaganti per goderne ogni giorno in casa propria. Una casa che cresce con loro. Da 50 anni garantiamo un'assistenza che dura nel tempo, anche dopo l'acquisto, perché arrediamo con passione, lavorando con aziende che si impegnano nella ricerca estetica, ma anche e soprattutto nel garantire la qualità. La casa è il luogo in cui trascorriamo la maggior parte della nostra vita e noi la arrediamo con emozione, perché abitare meglio li fa stare bene. Grazie a chi ci ha scelto e a chi ci sceglierà. Grazie a chi ci ha scelto e a chi ci ha scelto.